Anticipazioni un posto al sole. Martedì 8 dicembre 2020. Vittorio è ancora una volta di grande supporto e aiuto a Patrizio. Rossella ha a che fare con Michele, il quale in alcune mansioni possiede dei metodi purtroppo un po' antichi. Cotugno invece desidera fare il Latin Lover, ma si ritrova in mezzo a Bice e Sergio. Nico appare disperato per ciò che è successo al piccolo Jimmy. Mentre Giulia e Renato guardano con diffidenza il figlio e non sanno se credergli oppure meno. Nel frattempo Alberto Palladini vive l'ennesima, spiacevole, situazione mentre è a lavoro. Grazie a tutti.